Prosegue la Fiera delle Imprese Balneari a Ravenna. Oggi un importante convegno sulle concessioni balneari. Ha coinvolto tanti imprenditori del settore turistico, avvocati e amministrazione comunale. Un grande interesse per il futuro dei nostri lidi e tanti progetti. Secondo l'assessore del turismo Giacomo Costantini, questa fiera è un momento importante per la città e gli obiettivi che l'amministrazione si è posta per la stagione turistica. Siamo molto contenti di vedere i nostri stabilimenti balneari, gli operatori balneari che sono tornati al Pala d'Andrea con una fiera che segna l'avvio dei loro lavori per farci trovare i migliori servizi sulle nostre spiagge anche per l'estate 2024. Tra l'altro l'ambizione anche con i progetti che stiamo mettendo in campo a partire dal Parco Marittimo è quello di allungare sempre di più l'utilizzo delle nostre belle spiagge e di renderle fruibili in maniera sempre più inclusiva. Da questo punto di vista che sia l'accessibilità e la sostenibilità la fiera da dimostrazione, gli imprenditori, le aziende che sono qui in fiera di aver colto questi segnali che ci vengono dal pubblico poi dalle persone che utilizzano le nostre bellissime spiagge e i servizi degli stabilimenti balneari proponendo sempre di più forniture e servizi che sono nel segno dell'inclusività e della sostenibilità. Tanti gli eventi ma soprattutto tanta attenzione per tutti i stabilimenti balneari che operano nel nostro territorio, ha detto Costantini stabilimenti che per noi romagnoli sono come una seconda casa Siamo pronti per questa stagione? Abbiamo già un programma di eventi? Siamo pronti ma soprattutto il calendario di eventi più importante è quello che vanno a proporre i vari stabilimenti balneari che per noi romagnoli sono un po' come una seconda casa come una seconda micro comunità oltre a quella del nostro quartiere invece per quanto riguarda la capacità di accoglienza innovativa turistica sono sempre stati in grado di portare sulle nostre spiagge come fattore motivante tantissimi cittadini italiani quindi i nostri turisti nazionali ma sempre di più anche turismo straniero infatti i dati del 2023 ci dicono che non solo la città d'arte è stata premiata dal turismo straniero ma anche il nostro balneare quindi quello che ci auguriamo anche rispetto al quadro normativo e al dibattito sulla Bolkestein che ci sta vedendo molto interessati e concentrati è proprio che si riconosca questa competenza e qualità i nostri stabilimenti balneari che sono il perno dell'offerta del nostro turismo balneare Ampiando l'offerta turistica e proseguendo con gli impegni presi e gli investimenti previsti sulla costa il Comune mira ad avere un numero più alto di turisti quest'estate non solo per la città d'arte ma soprattutto per i Lidi